Cercherò di non farla lunga, ma di esprimere alcune cose a nome della segreteria uscente di quello che è stato e di quello che vorremmo fare. Cari compagni e cari compagni, cari ospiti, abbiamo deciso di aprire, come avete visto, il nostro decimo congresso proiettando un filmato che ci ricordasse periodi significativi della nostra storia. Una storia che non solo ha segnato il nostro paese, ma che ha percorso e percorre l'intero pianeta, come lo è stato la lotta dei neri d'America contro la schiavitù e il razzismo. Questi temi sono per i nostri giorni tremendamente attuali. L'intervento e le esternazioni di questo governo sul tema dell'immigrazione ci riporta per la crudeltà di alcune decisioni, all'emanazione delle leggi razziali fasciste del 1938, piazze piene, indifferenza, caccia al diverso. Una situazione che pensavamo lontanissima e irripetibile. Ci costringe invece ogni giorno a non abbassare le difese, ad impegnarci attivamente affinché la storia non si ripeta. Il manifestarsi di atti di intolleranza fascisti e squadristi non avvengono lontano da noi, ma in casa nostra, nella nostra bella città di Como, lo striscione di Forzanova appeso alla Camera del Lavoro, l'incursione fascista a Como senza frontiere e da ultimo l'attacco nei confronti di Don Giusto a Rebbio. Non credo che basti da parte nostra la bella e partecipata manifestazione unitaria dello scorso novembre. Essere accoglienti, tolleranti, solidali è diventato un disvalore. I buonisti non vanno di moda, mentre i cattivisti si erbano a modello della difesa dell'italianità, del primo agli italiani, dei porti chiusi, dei muri alzati, della tolleranza a zero. L'ultima vicenda che ha interessato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sembra la rivincita sui buonisti, che nel pensiero dominante pensano che pur di far arrivare gli stranieri, fanno anche carte false. Come dice Don Gino Rigoldi, quando si accolgono persone perdute, che scappano dalla guerra, dalla fame, dalla disperazione, è giusto farsi prendere dalla compassione, sentimento creativo che implica il trovare la maniera per aiutare occupandosene. Non sappiamo come si concluderà la vicenda di Riace, però io non ho dubbi da che parte stare. Condivido la presa di posizione di tutte le organizzazioni democratiche che si occupano di integrazione e accoglienza e hanno sempre riconosciuto nel modello Riace, studiato in tutto il mondo, eccellenza del sistema Sprar e vero modello di integrazione. Per queste ragioni è diventato l'esempio da combattere, la scusante per rinchiudere nei centri di prima accoglienza gli immigrati ed annullare i modelli di integrazione nelle comunità locali, come richiamato nel comunicato dello SPI regionale nazionale sulla vicenda. E questo è quello che avviene in Italia. Ma in Europa la situazione non cambia, anzi la destra, che ha vinto l'elezione in molti paesi, non consente una politica comune sul tema dell'immigrazione. Il nostro ministro degli interni, che fa la voce grossa, pretendendo giustamente che a farsi carico degli sbarchi nel nostro paese sia l'intera comunità europea, in contemporanea organizza l'incontro con Orban manifestandogli la piena condivisione delle scelte che in Ungheria nessun profugo deve essere accolto. Maniera molto interessante di pretendere una corretta politica europea.